Il mid level non è dato tanto dall'esecuzione, perché alla fine l'esecuzione è una cosa che ci lavori e le impari Non significa che appena impari l'esecuzione diventi top tier, diventi top level Ok, hanno già impostato i neutral, ci sono persi due ladder però sì Questo match sarà molto... Abbiamo una ladder però in orizzontale Dragnel dice, oh guarda ancora la scopa Devi anche aggiornare i nomi, punteggio E tu vuoi finire i concetti Tu vuoi finire i concetti Quella spike l'ho sentita io nelle gengive Beh, Dragnel ancora Si, si, si Si, devi togliere i tj Vabbè, tanto... Raga, ci siamo, ci siamo Dato che solitamente non lo faccio io Mi sono un attimo distrato We will be right back soon Qua è la ragazza Ah, eh sì, sì No, non è questa, è la ragazza Non è un ragazzo Dove cazzo sta? Eccola Ecco, color verde Sì, appunto Mi sa che... Ma vedi, c'è proprio così strano Oh, le spike Io non riesco a commentare Strane, però Vabbè, sono aggressivi entrambi Si conoscono La stock situation Si conoscono What? Dico, per giocare così Dico nel... Non come persone Ho capito Dico, quando hanno giocato insieme Cioè, non lo so, eh Poi può essere Perché... Ma per giocare così bene, immagino No, non credo Perché uno di... Viagli viva Bergamo Ora, Jumuz Mi sembra di aver capito Che è siciliano Perciò dubito Si conoscano Non come persone di più in game Proprio Dico quello killa E che killa Raga E siamo 1 a 0 per Yume E abbiamo il sudore tolto Da Wifi Cioè... Dove sta Zeb A Malta Devastante Bello che perché Malta è devastante Cos'è stato a Caltanisset Ma non mi aggiorna il... Il Caltanisset Non mi aggiorna il... Come cazzo dico Il Caltanisset No, non mi aggiorna il risultato Non funziona Capita quando... Ah no, a Caltanisset La smetto Quando mi trasferirò A A A A Caltanisset Esatto Da 5 secondi Beh, si sono fatti Cioè, manco il tempo di... Fai 1 a 0 Sì È un metodo Intanto abbiamo questo Brofist in game Molto strano Però ci sta Rispetto E si ricomincia L'esco Patrimonio Dell'UNESCO Quel... Oh mio Dio Quel jab Una cosa che mi sono sempre chiesto Dimmi Ma che follow up Al Wii Fit Dal jab Quando buria Dipende dalla percentuale Eh sì Lì forse un downtilt Non vorrei dire cavolate Forse Io ho visto da altissime percentuali Fare tilt Eh Perché Infatti Cioè tipo A mid percent Mi oddio La spike Eh Palloncini Palloncini Eh tu lo sai meglio di noi No Questo Questo è il cringe dei palloncini Cioè se non ci fossero i palloncini Non sarebbe morto Mai nella vita Ma pure lui è morto Non so cosa è successo Mi sono stati un secondo Ma è pure Ha driftato troppo Per non farsi prendere E in realtà Non ha potuto recuperare Tanto ancora Ci provano Ha cercato due strike Quando lui era sopra Cioè boh Le ginocchia entrano Leg day for tutti No assolutamente No ma sono d'accordissimo Su questo tornillo Nell'esempio Cioè Ah l'ha preso No comunque sono due discorsi diversi Ma quella di un'altra cosa Su quello che è Io non sono d'accordo Invece Sulla Cioè vabbè Dipendere chi l'ha piccato Però lo scenario Vom e chop del genere Io me li vedrei Giocati su final Non lo so Ok Su final Secondo me Hai meno Hai meno il rischio Di tutte ste combo Perché non hai le piattaforme No quello che dico Secondo me Poi potete sbagliare Final vai Ad accentuare i pregi Ad accentuare anche i difetti Diventa un po' di polarizzante Come si dice Però per quello Vorrei Per quello che vorrei Un match del genere E vabbè Là sarebbe Chi fa il vantaggio Vince Però te lo devi fare Cioè Qua è più bilanciato Mi fa più paura Uno stage del genere Cioè io Tipo con Isabel Se io fossi Isabel Non andrei mai Su final Ok No ma poi magari Mi ha scelta personale Poi magari c'è un'altra Isabel Che ti dirà Io andrei su final Ma senti Perché Isabel Non è che abbia stage negativo Oddio Questi Questi foro sono scaricati Sull'ending Ho capito Quando dici cose strane Non c'è quel rispetto Sulle cose Che non dovrebbero Killare Invece Killano Anche Da un smash Niente Sto cercati Ecco E invece Ecco un cazzo Che bello Se solo le percentuali Fossero state un po' più alte E Dragnel Che gira Attorno Ecco Vedi Cioè nel senso E là c'è l'entrata Luca c'era entrato Non capisco Là Luca c'era entrato Cioè nel senso Ecco Là Luca Ripeto Luca c'era entrato Bello Raga ricordo E ricordo Morta Che c'era Che l'inbriting è morto Sì sì Infatti l'ha perso ora No io Io Non avevo visto Se Se avesse l'inbriting In particolare Non sapevo se fosse morto o meno Perché secondo me Non l'avesse avuto Non sarebbe morto 2-0 L'ha perso Dopo Lit Capito Guarda qua Guarda Let's go Let's go Comunque Capito Cerca di Rapidamente Prima che finisce Perché con c'è altro set Quello che dicevo io Oh Beto Per te Beto Beto Ammina Oddio Il fatto che Beto l'hai visto Non significa Che certe persone Possano avere L'esecuzione Comunque Di un top Io no Io no Perché magari Non hai molti altri aspetti Che ti rendono Appunto top level Comunque Non è detto che Rob sia così scontato Comunque Beto Vediamo Cos'è? Ah è vero porco di moe Ah beh Comunque Beto In tuo onore No per dire Beto In tuo onore Non capisco Tra l'altro Stai vincendo Forse è una tattica Cioè non è sbagliato Io a Pokémon lo farei Ricordo che sono top 5 A livello mondiale A Pokémon Ciao ragazzi Non interessa a nessuno prossimo Non è una grande idea Secondo me In realtà Sto potendoti parlare dopo Perché ora vorrei commentare Però A Pokémon È una magnifica idea Beto può dirlo È lo switch in switch out Che vinci Mio dio Mio dio Chi lo si Eee Vantaggio di Isabelle Non più vantaggio Sì A me sta piacendo tantissimo Questo cambio di Wolf In realtà No dico Per carità Però sta vincendo No ma tu non hai capito Se che sto vincendo Tu non ti adatti Cioè capi È la sua idea E ci sta Cioè È una cosa che io farei Io avrei cambiato Vabbè Non dipende da me però Lo stage food Però vabbè Quello non dipende da chi vince Dipende da chi perde Ok vediamo un po' Ok vediamo un po' come si gioca Bellissimo Entra Eeeh C'è stato un po' di SDI Mi sembra Mi sembra No vabbè ma Comunque anche con SDI Poi truccombare Cioè ha sbagliato lui Non mi sembra molto consistent Senti ancora No No lo so Non so di per certo Anche se per SDI Ecco vedi Oh bella Queste cose Da un smash là No Beccato Laserone Cioè vedi di nuovo Se fosse stato più in alto Avrebbe di nuovo preso quella Quanto pesca E di nuovo da cavo Cioè questa cosa mi sembra strana Che non Non lo so Ecco Vabbè Forse il SDI B ci arrivava Ma dai Ciab da dietro Ho preso l'appetit Mi piace Ricirco Totalmente d'accordo Ma no Madonna Non credo di averlo mai detto Ho visto Wolf rischiare Cioè ma 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 E io forse Mi chiedo Non commento Questi match Ma Non l'hai mai fatto Non l'hai mai fatto No Cioè Sei letteralmente Mi lordo Nella meme Cioè Ma non l'hai fatto Di eh No Meglio Meglio Che Non so Io A commentare Mentre si svolgono Questi match E' punibile Non è punito Dragnet Ok 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 Attenzione Mi oddio I 5 Perché ovviamente Sono tutti super aggressivi Autofista Non Non fanno mai un'altra opzione La prende No non che la Se non Un Mereal Avrei fatto una Tua cercata Ma Cosa Vabbè Che meme Che meme Reinaria Signore si riapre Tutto Vabbè ma Indipendente Pur se avesse vinto L'avrei detto Secondo me Cioè io personalmente Non voglio dire Alle altre persone Ma no Se avessi vinto l'altro Non si sarebbe Riape No dico Non voglio dire Le altre persone Che si devono fare Ma secondo me Spiegaci Io personalmente Non l'avrei mai fatto Non switchare a world Switchare in generale Quando stai vincendo Ma perché tu hai un Poi dipende un sacco di cose Per carità Magari L'unica cosa che mi viene in mente È come ha fatto Kjavik prima Nel senso che Kjavik Ha vinto Ha vinto un match Cioè mi sono suicidato io Ho giocato con due stock Praticamente Alla fine la stock La city è riuscita a vincere lui Ha detto vabbè dai switch Perché ha vinto Ho vinto perché si è suicidato Là ancora Ancora posso capirlo Ma non lo so In realtà io lo capisco Ti ripeto Perché è un'idea di Giocare con la Psicologia della persona Ma guarda Secondo me In questo momento Non c'è bisogno Quindi vabbè Cioè troppa fatica per giù No dico che Non serve a niente Perché il modo in cui In cui No dico Il modo in cui comunque Ha giocato io Dragle Non è cambiato Perciò E mi sembrava Ovvio che non sarebbe cambiato Perciò dico Non mi sembrava Come va su studio Infatti abbiamo Un cambio di stage E caricano entrambi i cose Cioè caricare Non è caricare Il giusto termine Per insomma Insomma Gentle Mamma mia Oddio Non è che in tre è quello Sì era che in tre Sì era che in tre Sì era che in tre Sì è un'ora al giorno Scusatemi Sono un botte Eh abbiamo visto le stifte Che successo non hai visto Ok sì Da parte di chi? Puoi vedere E' un botte Eh no ora no Non vuole Eh vedete Isabel Si è lanciata Si è buttata nel E la pasto Apposto Stai vincendo i humans 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 Ti volevo ci leggera Beh meglio di no Che già mi sto gringendo Abbastanza Come ha detto Bubz prima Che per gli appassionati È se ne ancora c'è Si è vito Si opera Allora se poi vogliamo parlarne Ne parliamo Ora non ne parliamo Le orecchie di fuffi Sono banane Le orecchie di fuffi Sono banane Sono banane Guardalo Comunque In realtà Non è event Perché c'è stata Quella brutta Eh infatti No è bruttissima Come situazione No comunque Allora Una cosa la possiamo dire Che è Pier Guard Per una serie di motivazioni Quello killa Non c'è stata la tech Per una serie di motivazioni Più che comprensibili Totalmente comprensibili Non è nel suo migliore della forma Ha giocato molto male Ha giocato molto male Grazie a tutti.